Un appello alla prefettura per ottenere un chiarimento sul DPCM del 3 dicembre 2020 che ha stabilito la chiusura dei centri commerciali nei weekend. A chiederlo è Paolo Varchi, titolare del Salone di Bellezza all'Omnia Center. In questi mesi il negozio dell'imprenditore è rimasto chiuso nei fini settimana, arrivando a perdite negli incassi fino al 70%. Eppure, secondo Varchi, non tutte le attività di padrucchiere hanno tenuto lo stesso comportamento. Come è verificato dallo stesso imprenditore in altri centri commerciali fuori da Prato, alcuni saloni di bellezza sono rimasti aperti nei fini settimana. Da qui la decisione di rivolgersi a un avvocato per dirimere la questione e di chiedere il supporto di confartigianato. Assieme all'associazione di categoria è stata inviata una PEC in prefettura per comprendere meglio qual è il quadro normativo. Mail alla quale però non è stata data ancora risposta. La mia richiesta è soltanto sapere qual è la differenza tra io a Prato e gli altri che sono nelle zone di Mitrofe, come ho detto, e chi ha ragione, perché io devo venire a capo di questa situazione, prima di tutto per tutelare la mia categoria, tutelare me come azienda, e poi soprattutto devo guardare a un fatto che ho una perdita notevole di tutto questo del 70% sia di clientela e soprattutto di incasso, che adesso mi inizia ad essere molto pesante la situazione. Però è normale che esigo una risposta prima possibile perché così non si può andare avanti. Leggendo il DPCM i parrucchieri non rientrano nelle categorie dei servizi essenziali che possono restare aperte nei weekend all'interno dei centri commerciali, come farmacie, edicole e supermercati. E questo, secondo Varchi e confartigianato, rende ancora più urgente un chiarimento da parte della prefettura. Le clientela quando trovano chiuso da una parte non è che non si fanno i capelli, vanno da altri posti, vanno da altri colleghi, ma è normale, succede questo, poi rimangono del dubbio perché vedono che io sono chiuso e gli altri sono aperti nei centri commerciali.